Si chiama Harlem Shake ed è il nuovo tormentone virale. Questa sorta di danza tribale nell'era di internet è basata sul verano di Bauer, DJ new yorkese. Il video originale è stato messo online da Filthy Frank lo scorso 2 febbraio e in sole due settimane ne sono state uploadate 12.000 versioni diverse, viste in totale 44 milioni di volte. E nel quartiere della Grande Mela da cui la danza prende il nome le persone sembrano divertite. Penso sia un ballo carino. Ha molto a che vedere con Harlem che è un posto fatto di musica. Un sacco di cose che vengono da qui sono incredibili. Il ballo, molti artisti. Credo che questo sia un ballo carino da far fare ai più piccoli. Certo, Harlem Shake deve ancora farne di strada prima di raggiungere le cifre record fatte registrare da Gundam Style il primo video della storia a superare il miliardo di visualizzazioni.